Sono 10.291 gli studenti salernitani alle prese da oggi con l'esame di maturità che per il secondo anno consecutivo deve fare i conti con il Covid. Anche per quest'anno le prove sono state concentrate in un unico esame orale, con una garanzia in più però rispetto allo scorso anno. I maturandi sono stati vaccinati e dalle testimonianze dei ragazzi davanti a scuola questa strategia è stata fondamentale per donare un po' di serenità a tutti gli studenti che hanno seguito praticamente tutto l'anno scolastico in dad, privandosi di quel confronto che nessun computer potrà mai trasmettere. La comunità scolastica ha dimostrato grande capacità di resistenza e creatività, riuscendo a garantire un adeguato servizio didattico e formativo, ha sottolineato in un messaggio di augurio in bocca al lupo agli studenti il sindaco Vincenzo Napoli, ricordando che anche il Comune di Salerno ha fatto la sua parte per garantire il sicuro svolgimento delle attività con tamponi, sanificazioni, ricerche e vaccinazioni. La conferma della serenità che è stata donata dal vaccino arriva anche dalle testimonianze delle prime tre studentesse che hanno sostenuto l'esame nel Comune Capoluogo al Liceo Classico Tasso di Salerno e al Liceo De Santis di Salerno. L'emozione non è mancata e di fiori neanche. La mascherina non lo consente ma c'è un grosso sorriso di una maturanda che è soddisfatta, che ha fatto l'esame. Verissimo, c'è l'emozione, gli amici attorno, la famiglia. Io sono stata la prima oggi del primo giorno quindi è stato emozionantissimo e sono finalmente felice, mi sento libera. È stato così come te l'aspettavi? Sì, è andato come mi aspettavo stranamente, molto bene perché poi i professori ci sono stati vicini, sono stati molto affettuosi e è stato un bel coronamento finale, sì, mi è piaciuto. Peccato per un ultimo anno, vissuto a distanza anche con i compagni. È vero, la classe ha cercato di mantenere la sua coesione, abbiamo cercato anche con tutta la scuola, abbiamo le pagine, Instagram, ora è tutto spostato sui social. Però manca il tatto, l'abbraccio, il compito passato tra i banchi manca. Quanta sicurezza vi ha dato in più il vaccino? Tanta, tantissima, infatti ci siamo prenotati subito alle 22 tutti, siamo andati insieme al Teatro Agusseo, è stato bellissimo fare il vaccino, è stata la cosa più emozionante dell'anno, senza discoteche, senza niente. E ora speriamo di tornare presto alla vita di prima. Sì, è diverso però sempre con tanta ansia, tanta preoccupazione, però è andato bene. Mi è dispiaciuto non fare gli iscritti, perché il clima, le persone, però è andato benissimo e sono contenta. Qualche rimpianto anche per un ultimo anno diverso, non ci sono strategie? È un anno molto particolare, infatti avrei potuto passare molto più tempo a scuola piuttosto davanti al computer, però almeno abbiamo potuto vederci anche l'ultimo giorno di scuola e quindi... Il fatto di essere stati vaccinati vi ha dato una maggiore sicurezza? Assolutamente, infatti appena sono usciti subito ci siamo vaccinati, perché abbiamo questa necessità, vogliamo ritornare a stare insieme, ad abbracciarci e stare tutti quanti sempre uniti. E quindi solo il vaccino ce l'ha permesso e siamo contenti. Vabbè, l'ansia ci stava, però meno male, primo giorno, almeno me lo sono tolto, diciamo. Praticamente tra le primissime candidate a sostenere l'esame, per la seconda volta con questa modalità Covid, qualche rimpianto per non aver potuto sostenere la prova così come la tradizione prevedeva? Allora, sicuramente io penso che con gli iscritti forse era agevolata, nel senso che potevo prepararmi e non avevo l'ansia dell'orale, di dover dire tutto, perché alla fine con gli iscritti c'è una parte che fai la tesina e poi proprio alla fine c'è un orale su un'unica cosa, mentre così abbiamo dovuto discorrere su tutte le parti dell'elaborato, quindi tutte le parti prima dell'elaborato, poi il tema italiano, poi tutte le altre materie, quindi era un carico più grande sicuramente. Con una sicurezza in più perché siete stati vaccinati, quindi arrivate a questa prova con la certezza, insomma con almeno la garanzia del vaccino. Sì, infatti la mascherina ho potuto toglierla perché eravamo a tre metri di distanza, quindi era stato anche semplificato da questo punto di vista. E ora come festeggerai? In vacanza anche con la certezza del vaccino? Sì, sì, sono contentissima perché è il 16 giugno, quindi posso godermi l'estate e sono contenta. Un apposito piano di scaglionamento e di sanificazione ha preceduto negli atri delle scuole l'ingresso dei maturandi che potevano scegliere di far assistere all'esame una sola persona, ma molto spesso restano fuori ad attendere i genitori, come è il caso di questa mamma. Ha cambiato tantissimo, tanto, tanto, tanto. Infatti mia figlia ha voluto che io l'accompagnassi, però non ha voluto che entrava, quindi io aspetto qui, invece ai miei tempi magari il genitore lo volevamo, poi è cambiato tutto, anche a causa del Covid, si studia in una maniera completamente diversa, non c'è più quell'emozione, si è perso tutto. Con la fortuna diciamo che quest'anno con il vaccino almeno c'è una tranquillità in più, condivide? Almeno siamo in presenza, questo è già tanto e quindi c'è sicuramente una sorta di tranquillità in più. Poi vedremo cosa accadrà, però sicuramente è cambiato tutto dai nostri tempi, decisamente più belli quelli che vivevamo noi. Adesso siamo qui in attesa. Grazie.